di ogni lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Modello di santità, Sede della Sapienza, Causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio di gloria, Modello di vera pietà, Rosa mistica, Gloria della stirpe di Davide, Splendore di grazia, Arca dell'Alleanza, Porte del cielo, Stella del mattino, Salute degli inverni, Rifugio dei peccatori, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, Reggina degli angeli, Reggina dei patriarchi, Reggina dei profeti, Reggina degli apostoli, Reggina dei martiri, Reggina dei confessori della fede, Reggina delle vergine, Reggina di tutti i santi, Reggina concepita senza peccato, Reggina assunta in gelo, Reggina del santo rosario, Reggina della famiglia, Reggina della pace, Reggina del Monte Carmelo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, sotto il tuo presiglio ci rifugiamo, Santa Genitrice di Dio, non disegnare delle preci che ti innalziamo dalle nostre necessità, ma salveci sempre da tutti i pericoli, o Vergine, gloriosa e benedetta. Prega per noi, o Santa Genitrice di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo, preghiamo e saudisci misericordiosi Dio alla supplica dei tuoi servi, a ciò che è riunito alla società del Sacratissimo Rosario, per la Vergine Genitrice di Dio e per la sua intercessione, siamo da te liberati da tutti i pericoli che ci sovrastano per lo stesso Cristo, il Signor nostro così sia, e con la prolepia ci benedica la Vergine Maria, la benedizione di Dio Nipotente, Padre, Figliolo e Spirito Santo, e per intercessione delle Regine del Sacratissimo Rosario, discenda sopra di noi e ci rimanga sempre, l'Angelo del Signore e porto l'Annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Ecco l'Angela del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. E il verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Pregiamo. In mondo, nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'Annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'ingarnazione del tuo Figlio, con la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore, amme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custodio, illumna, custodisci, reggi, governa a me, che ti fui affilato dalla pietà celeste, amme. L'eterno riposo dono a loro, Signore. E splende ad essi la luce perfetta, riposino in pace, amme. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo. E fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio. Dopo quello della tua Santissima Sposa, De per il Sacro Vingolo di Carità, che ti stringe all'Immacolata, Vergine Maria e Madre di Dio. E per l'amore paterno che portaste al Fangiullo Gesù. Riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue. E col tuo potere d'aiuto sovviene ai nostri bisogni. Proteggio, propito custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. All'ondana da noi, oh Padre amatissimo, gli errori e i vizi che ammorbono il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta, contro il potere delle tenebre, oh nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte, la minacciata vita del pargoletto Gesù. Così ora difende la Santa Chiesa di Dio, dallo stile inzidio e da ogni avversità. Estendi sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio. Affingato esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amme. Secondo l'intenzione del Sommo Pondefice per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome, venga il tuo regno, si è fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria piena di grazie il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta fra le donne. Ave Maria piena di grazie il tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazie il tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazie il tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre della Chiesa, nel nome del Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Allo, Gesù. Ave Maria. Ave Maria. Grazie. 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 Venite e adoriamo, venite e adoriamo, venite e adoriamo, il Re del Cielo. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo questa sera la festa della Santa Famiglia Gesù, Maria e Giuseppe. Ed è la festa di tutte le famiglie. Molte coppie sono qua davanti, anche lì ci siete tante altre Vogliamo oggi metterci dinanzi alla presenza del Signore come singoli ma soprattutto come famiglia e come famiglia anche comunitaria perché possiamo comprendere il significato e il valore dell'essere famiglia Adesso ci sediamo e ascoltiamo l'ambientazione per questa celebrazione Oggi in questa liturgia eucaristica che è manifestazione dell'amore di Cristo per tutta l'umanità la Chiesa celebra la Sacra Famiglia Nella famiglia di Maria e Giuseppe si è manifestato il Salvatore Dio, fonte dell'amore, nella sua immensa misericordia mandò il suo figlio unigenito per liberarci dalla tirannide del demonio per invitarci al cielo Dio volle che questo suo figlio, incarnandosi, nascesse in una famiglia fosse educato in una famiglia per poi aprirsi al mondo Nel suo progetto d'amore per la salvezza dell'umanità Dio assegna alla famiglia un ruolo fondamentale, unico, non delegabile Quando educatori, operatori sociali, responsabili pastorali riflettono sulla situazione sociale ed ecclesiale ed ipotizzano un futuro diverso arrivano sempre alla conclusione che bisogna ripartire dalla famiglia Nonostante gli attacchi che da più parti arrivano contro la famiglia la speranza sta nella famiglia perché nella famiglia si è incarnata la vera speranza la radice di tutte le speranze La famiglia è stata da Dio pensata fin dalle origini maschio e femmina li creò a sua immagine e somiglianza li creò Per questo la famiglia, con la Chiesa, è la comunità capace di superare ogni crisi capace di promuovere sempre la vita Come famiglie siamo chiamati a vivere nella quotidianità questa vocazione da testimoni autentici dell'amore di Dio per l'umanità seguendo gli insegnamenti evangelici da cui trova alimento la dottrina sociale della Chiesa Facciamoci aiutare da San Giuseppe e da Maria Madre delle Madri sempre solerti ed attenti ad accorrere il nostro aiuto intercedendo presso il loro figlio Gesù il solo capace di dare speranza a quanto umanamente appare senza speranza Famiglia da Dio si è stata pensata e voluta diventa ciò che sei credi in ciò che sei ad imitazione della Sacra Famiglia di Nazareth Adesso ci mettiamo in piedi e invochiamo la misericordia del Signore per diventare capaci di perdono reciproco in particolare nell'ambito familiare Confesso a Dio Onipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata, Sembra Vergine Maria gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro Dio Onipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna Signore pietà Signore pietà Cristo pietà Cristo pietà Signore pietà Signore pietà Signore pietà Signore pietà Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà noi Ti lodiamo Ti benediciamo Ti adoriamo Ti glorifichiamo Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa Signore Dio Re del Cielo Dio Padre Onipotente Signore Figlio Onigenito Gesù Cristo Signore Dio Agnello di Dio Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi perché Tu solo il Santo Tu solo il Signore Tu solo l'Artissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre Amen Preghiamo Dio nostro Padre che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita fa che nelle nostre famiglie fioriscono le stesse virtù e lo stesso amore perché riuniti insieme nella Tua casa possiamo godere la gioia senza fine per il nostro Signore Gesù Cristo Tuo Figlio che è Dio e vive regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli Dal libro del Siracide il Signore ha glorificato il Padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole Chi onora il Padre espie i peccati e li eviterà e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita Chi onora la sua madre è come chi accumula tesori Chi onora il Padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera Chi glorifica il Padre vivrà a lungo Chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre Figlio Soccorri tuo Padre nella vecchiaia non contristarlo durante la sua vita Si indulgente anche se perde il senno e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno del vigore L'opera buona verso il Padre non sarà dimenticata otterrà il perdono dei peccati rinnoverà la tua casa Parola di Dio Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie Della fatica delle tue mani ti nutrirai Sarai felice e avrai ogni bene La tua sposa come vite feconda nell'indimità della tua casa i tuoi figli come virgulti d'ulivo indorno alla tua menza Ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore ti benedica il Signore da Sion possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi Fratelli scelti da Dio Santi e amati rivestitevi di sentimenti di tenerezza di bondà di umiltà di mansetudine di magnanimità sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nel riguardo di un altro come il Signore vi ha perdonato così fate anche voi ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto e la pace di Cristo regni nei vostri cuori perché adesso siete stati chiamati in un solo corpo e rendete grazie la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi inni e canti ispirati con gratitudine cantando Dio nei vostri cuori e qualunque cosa facciate in parole e in opere tutto avvenga nel nome del Signore Gesù rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre voi, mogli state sottomesse ai mariti come conviene nel Signore voi, mariti amate le vostre mogli e non trattatele con durezza voi, figli obbedite ai genitori in tutto ciò è gradito al Signore voi, padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino parola di Dio e diamo grazie a Dio Alleluia 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 La pace di Cristo regni nei vostri cuori la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza Alleluia 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 Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Matteo I Maggi erano appena partiti Quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe E gli disse Alzati, prendi con te il bambino e sua madre Fuggi in Egitto e resta là Finché non ti avvertirò Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo Egli si alzò nella notte Prese il bambino e sua madre E si rifugiò in Egitto Dove rimase fino alla morte di Erode Perché si combisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta Dall'Egitto ho chiamato mio figlio Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto E gli disse Alzati, prendi con te il bambino e sua madre E va nella terra di Israele Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino Egli si alzò Prese il bambino e sua madre Ed entrò nella terra di Israele Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao Al posto di suo padre Erode Ebbe paura di andarlo Avvertito poi in sogno Si ritirò nella regione della Galidea E andò ad abitare in una città chiamata Nazare Perché si combisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti Sarà chiamato Nazareno Parola del Signore E' bello vedere tante coppie di sposi Tante famiglie Perché alcuni ci sono anche i figli accanto Ritrovarci in questo giorno della Santa Famiglia Per guardare la Santa Famiglia Ammirarla E per imitarla Perché così ci diceva l'orazione Fa che possiamo imitare Le virtù della Santa Famiglia La famiglia Che celebriamo Gesù Maria e Giuseppe E' la Santa Famiglia E' Anche le nostre famiglie Guardando e ammirando e contemplando Questa Santa Famiglia Sono chiamate A divenire Sante Perché la famiglia E' santa Maria Compie la volontà Di Dio Giuseppe Pure Non diciamo come è avvenuta la cosa Ma Elisabetta in questo tempo di Natale Ne abbiamo parlato Gesù E' Il figlio Di Dio E Dio stesso Che E' il verbo che si fa carne Compie la missione che il padre gli ha affidato E durante la sua vita cercherà sempre Di agire In sintonia con il padre Cosa emerge allora Cosa li accomuna La ricerca Della volontà Di Dio E l'ubbidienza A Dio Questo è quello che li accomuna E questo è Ciò che fa Santa La famiglia Cercare Dio Ubbidire Alla parola di Dio Fare la volontà Di Dio Questa Prima Prerogativa Che appartiene Alla famiglia E' accompagnata Da quello che Ne scaturisce Come conseguenza La volontà di Dio E' esplicitata poi Nel vivere Nel vivere L'amore Di Dio Allora Nella famiglia Quello che E' l'elemento Unificante Realizzante Quello che Quello che Forma Istituisce E fa vivere La famiglia E' l'amore Dio Dio dice Giovanni E' amore E quest'amore E' vissuto Nella famiglia Trinitaria Tra il padre E il figlio E lo spirito santo E questo amore Dio Lo manifesta Gli uomini In questi termini Quanto Si relaziona Con il popolo Di Israele Lo chiama Ora Vediosea Sposa Lo chiama Come abbiamo ascoltato Nel Vangelo Figlio E' Con queste categorie Familiari Che Dio Realizza Questo rapporto Con il popolo Di Israele Proprio perché Sono Le esprizioni Più forti Dell'amore L'amore Sponzale L'amore Paterno Allora Questo amore Deve Caratterizzare La vita Familiare Ma innanzitutto E' così Perché Due persone Che Si conoscono Che Si stimano Che A un certo punto Si innamorano Che Dall'annumeramento Pensano Di poter Stabilire Una vita Comune Approdono A che cosa Al matrimonio Cioè A celebrare Attraverso Il sacramento Del matrimonio Quello che è L'intenzione Di vivere Una vita Insieme Per sempre Non Momentaneamente Di un giorno Di un giorno Di un anno Ma Un amore Continuo Costante Per tutta la vita Ed è questo L'amore A questo porta L'amore L'amore Non è E non può essere Mai Passeggero Momentaneo Di un momento L'amore Di per sé Quando è amore Chiama Ad essere Chiama ad essere Vissuto Per sempre Unico E fedele Ed eterno Possiamo dire Allora Questo amore Che noi Sperimentiamo Guardando la famiglia Di Nazareth E guardando Anche la nostra Esperienza Diventa Non solo L'amore Sponzale Di coppia Che Chiama a vivere L'amore Unico E fedele Per sempre Ma anche L'amore Che si dona Che si trasmette E che Fa assumere Impegni E responsabilità Come Lo è Quanto Si ci sposa E quanto si mettono A mondo Dei figli Perché già Nel matrimonio L'uomo Sente di vivere Con l'altro Cioè con la donna E la donna Sente di vivere Con l'uomo Ma non è solo Un con Un insieme Ma anche per 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 l'uomo E per la donna E questo per Comporta Servizio Dono Comporta Agire Per l'altro Amare l'altro Servire l'altro Donarsi all'altro O sacrificarsi Per l'altro Eccetera Questo altro Poi si apre Ai figli E noi abbiamo Ascoltato il Vangelo Come Giuseppe Agisce Per salvaguardare La vita Di Gesù Che è minacciata Minacciata Da Erode Questo re potente Che ha paura Di un bambino Guardate l'uomo A che cosa si riduce L'uomo potente Si riduce ad avere paura Di un bambino Che è nato Solo perché gli hanno detto Che è nato Il re di Israele Allora Ecco che Giuseppe Di fronte a questo pericolo Di questo potente Che ha paura Che minaccia E che attualizza La strage degli innocenti Porta La sua famiglia In Egitto Cioè in un luogo Dove Può essere Savvaguardata Dove essere custodita Senza correre il pericolo Di essere Uccisi Questo Ci dice L'amore Per Quindi i figli Quei figli Quei figli Che assaporano L'amore Dei genitori Assaporano Le attenzioni Le cure Le premure Per la loro Salvaguardia La loro crescita La loro formazione Ed è così Che i figli Incominciano a gustare L'amore Che c'è All'interno Della famiglia Perché si sentono amati E poi un giorno saranno chiamati A vivere di quest'amore A ricambiare Quest'amore Ai genitori E a viverlo anche tra loro Nella relazione fraterna Perché Nella famiglia Le relazioni Sponsate Tra marito e moglie La relazione Padre Figlio Figlio Genitori Sono relazioni Che vanno vissute Nell'amore Allora Questo amore Deve circolare Nella famiglia Questo amore Non deve mai esaurirsi Deve diventare Un attingere L'uno dall'altro Quella Benevolenza Quell'affetto Quella Dedizione Che porta a dire È bello Essere Una famiglia Dobbiamo dire Che è bello Essere famiglia Noi cristiani Dobbiamo testimoniarlo Che è bello Essere famiglia Perché nella famiglia C'è L'amore E che cos'è Più bello Dell'amore Quando c'è L'amore Nella famiglia Allora la famiglia È espressione Della Testimonianza Di Cristo In mezzo Ad essa Però Purtroppo Cosa succede? Che molte volte In situazioni particolari Invece di essere Come diceva La seconda lettura Di San Paolo Ai Colossesi Magnanimi C'è di animo Grande Diventiamo Il congiario Mignanimi C'è di animo Piccolo Diventiamo Piccoli Chiusi E Di fronte A qualche Incomprensione A qualche parola Non accettato Capita male Di fronte A qualche Diverbio O divergenza Di pensiero Ecco Che si ci chiude Ecco che si Non si ci parla Ecco il muso Ecco la lite Ecco L'animo Che diventa Piccolo Piccolo Invece Di ascoltare San Paolo Che dice Di essere Magnanimi Cioè di Di grande animo Proprio in certe situazioni Il congiario La risposta è Una chiusura Maggiore Un Diventare Più piccoli D'animo Un Chiudersi Allora Ecco che Queste situazioni Non devono Prendere Il sopravvento Perché l'amore Deve esserci sempre Anzi C'è bisogno In queste situazioni Di più Amore Di più Amore E com'è che si Manifesta Questo più Amore Attraverso Come ci dice Sempre San Paolo Nella seconda lettura Che abbiamo ascoltato Attraverso La misericordia Attraverso Il perdono Il perdono E la misericordia È un amore Di più Perdonare O avere Usare misericordia Non è essere deboli Fare il primo passo Perché si è Magnanimi E si è misericordiosi Non è essere più deboli È essere più forti È avere l'animo grande È avere amore di più Questo è Il magnanimo Questo è l'amore di più Richiesto E chi ha più amore È più debole Chi ha più amore È colui che si sottomette Colui che si sottomette Chiamatelo così Come volete Non è Un perdente È Uno che ha più amore È una che ha più amore Allora È importante Cogliere La presenza Di Dio Nella nostra vita Per fare la sua volontà È per vivere Nell'amore E questo è il mio messaggio oggi La Santa Famiglia è santa Perché fa la volontà di Dio È perché vive Nell'amore Affrontando Qualsiasi Sacrificio Qualsiasi Prova Sempre Convidando Nel nome del Signore E questo ultimo pensiero Ve lo dico pure Perché a meno potete Avere anche Un'immagine Da portare E ricordarvi anche La giornata di oggi Della sesta Della Santa Famiglia Voi a casa avete Tutti Un'immagine Della Sacra Famiglia O di Gesù O della Madonna È vero che ce l'avete Ce l'avete Come capezzale Oppure nel salone Ma perché ce l'avete Questa immagine di Gesù A casa vostra Penso che tutti ce l'avete O Gesù O la Madonna O la Sacra Famiglia O il bambino O tutti Il crocifisso C'è qualcuno Che non ce l'ha Se c'è qualcuno Che non ce l'ha Glielo regalo io Tutti ce l'ha Tutti ce l'ha Allora Tutti avete Questo segno Che cos'è questo? È soltanto Un oggetto decorativo? Vogliamo decorare Il nostro salone La nostra stanza da letto? O è indicativo Per dire La nostra fede Per dire Il nostro essere cristiani Per dire Che nella nostra casa Nella nostra famiglia C'è Gesù Cristo C'è il Signore C'è la sua parola La sua luce Il suo amore La sua volontà Bene Oggi Guarda oggi Chi l'ha fatto prima Bene Continua a farlo Chi non l'ha fatto Pensi Che Tenere Un oggetto sacro Che poi magari Fate pure benedire A casa Deve essere Espressione Della vostra fede Della vostra Vita cristiana Della vostra Preghiera Cristiana Perché Come si fa A vivere La presenza Di Dio Se non c'è la preghiera E la preghiera Ci aiuta A fare la volontà Di Dio E ad amarci Auguri A tutti L'anno scorso Avevamo un po' più spazio Perché i banchi Erano di lato Per Mi pare che c'era Una manifestazione L'anno scorso C'è stata La manifestazione Di una Un momento qua Di musica Non mi sto ricordando E quindi Avevamo i banchi Più allargati E tutte le coppie Vi siete messi Qui al centro Per rinnovare Il vostro impegno E le vostre promesse Matrimoniali Però Penso che Si ci va lo stesso Anche se non abbiamo Creato lo spazio Casomai Voi che siete lì Nei primi banchi Vi fermate lì In questa Pagno E Invece Quelle che sono In mondo Possono Avvicinarsi Per rinnovare Appunto Gli impegni Matrimoniali Noi Abbiamo Anche Avuto Quest'anno Diciamo Un buon numero Di matrimoni Una doggina Di sposi Hanno celebrato Qui Le nozze Abbiamo avuto Anche Tre È venticinquesimo Di anniversario E abbiamo avuto Cinque Cinquantesimo Di anniversario Quindi Diciamo che È stato Un buon numero Purtroppo Purtroppo Non tutti Sono presenti E c'è anche Chi oggi Fa pure L'anniversario Del suo matrimonio Sbirgiola Luigi E la moglie Giuseppina Ecco Oggi Un applauso Facciamo a Luigi Poi abbiamo Anche Una coppia Ospite Che hanno celebrato Pure quest'anno Ad aprile Il Loro Matrimonio Salvatore Spambinato Con Venera Petrelia Che vengono Da piazza Armerina Ecco Si sono sposati L'ora Ad aprile Ha celebrato Le nozze Il vescovo Ma hanno Lo zio Pure Monsignore Petrelia Parroco Della chiesa Madre Di Enna Allora Vi invito Ad alzarvi Ad avvicinarvi Tanto dovete dire Si lo voglio O poi Va bene Allora Nel frattempo Che si avvicinano Le loro Le coppie Ecco Allora Avvicinatevi Ecco Avvicinatevi Insieme D'uno Ecco E' un'altra fila Qua Ecco Perfetto Benissimo Avanti 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 Quelle che hanno fatto 50 anni Signore Donzella Ecco Benissimo Quelle che si sono sposati quest'anno Sergio Dimelo 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 tu Alessia Ecco Benissimo Benedetta E Adriano Ecco Vedete Ce ne sono Tante coppie Carissimi Carissimi Sposi Gioia E di speranza Per la vostra vita familiare Ma prendere più viva coscienza Di un evento di grazia che il Signore continua a compiere in voi E che vi impegna a perfezionare e santificare la vostra comunione interpersonale E unità feconda affinché renda manifesto il rapporto di amore tra Cristo e la sua Chiesa Volete dunque continuare ad amarvi con amore fedele e inesauribile Nella gioia e nel dolore Nella salute e nella malattia In modo che la vostra unione renda visibile l'amore ingarnato, fecondo e definitivo di Cristo per gli uomini Egli salva Volete rinnovare il vostro impegno di manifestare la vostra famiglia come vera Chiesa domestica Cioè quale espressione particolare e concreta di comunità cristiana che si nutre costantemente dell'Equaristia Della parola, della preghiera Che si sviluppa e partecipa agli altri Il dono suo proprio di mutuo accoglimento e donazione Volete continuare ad essere con la parola e con l'esempio L'uno all'altro e ai figli Testimoni della fede e dell'amore di Cristo E in quanto primi catechisti A secondare la vocazione propria dei figli e quella sacra In modo speciale Eventualmente scoperta Volete generosamente offrire il vostro servizio per edificare la comunità cristiana Nella comunione con Dio e con i fratelli Ed essere nel mondo strumenti di vita nuova e annunciatori del suo amore Dio, nostro Padre, confermi il proposito che avete manifestato E si degni di ricormarvi di ogni benedizione Adesso scambiatevi un abbraccio di pace ed amore Ecco adesso ci raccogliamo in preghiera E invoco su di voi la benedizione Noi ti lodiamo e ti benediciamo Dio creatore e signore dell'universo Che in principio hai formato l'uomo e la donna E li hai uniti in comunione di vita e di amore Ti ringraziamo perché hai unito questi sposi Nel vingolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa Guardali, oh Signore, con occhio di predilizione E come li guidasti tra le gioie e le prove della vita Ravviva in loro la grazia del patto nuziale Accresci l'amore e l'armonia dello spirito Perché godano sempre della tua benedizione Per Cristo nostro Signore Adesso vi faccio di nuovo gli auguri Perché questa benedizione che abbiamo invocato Possa sempre accompagnarvi E possa soprattutto essere testimoniata Come abbiamo detto Ai figli e alla società Perché vedano che ci c'è ancora La bellezza di essere famiglia Di essere una famiglia fondata su Gesù Cristo Che vive e testimonia Lui nella nostra vita E soprattutto nella vostra vita familiare Auguri e un applauso a tutti voi Un augurio particolare Facciamo a Luigi e a Giuseppina Che oggi fanno 29 anni di matrimonio L'ultima coppia che si è sposata Arcangelo e Melina Auguri In piedi professiamo la nostra fede Credo in un solo Dio Padre Onnipotente Creatore del Cielo e della Terra Di tutte le cose visibili e invisibili Credo in un solo Signore Gesù Cristo Unigenito Figlio di Dio Nato dal Padre e prima di tutti i secoli Dio da Dio Luce da luce Dio vero da Dio vero Generato o non creato Della stessa sostanza del Padre Per mezzo di Lui Tutte le cose sono state create Per noi uomini E per la nostra salvezza Discesi dal Cielo E per ora Dio di Dio Fu crocifisso per noi Sottoponzio Pilato Morì e fu sepolto Il terzo giorno è risuscitato Secondo le scritture E salito al Cielo Siede alla destra del Padre E di nuovo verrà nella gloria Per giudicare i vivi e i morti E il suo regno non avrà fine Credo nello Spirito Santo Che è Signore dalla vita E procede dal Padre e dal Figlio E con il Padre e il Figlio Adorato e glorificato E ha parlato per mezzo dei profeti Credo la Chiesa Una, santa, cattolica e apostolica Professo un solo battesimo Per il perdono dei peccati Aspetto la risurrezione dei morti E la vita del mondo Che verrà Amen Fratelli e sorelle La festa che celebriamo Nel ricordo della Santa Famiglia È un invito a rivedere Le nostre famiglie Alla luce dell'esperienza familiare Di Gesù stesso Preghiamo Perché la famiglia umana Divenga Un segno luminoso E trasparente Del dialogo Dio-uomo Preghiamo insieme dicendo Per l'intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth Ascoltaci Signore Per l'intercessione della Famiglia di Nazareth Ascoltaci Signore Signore Gesù Donaci la pace e l'amore Perché possiamo amarci tra noi Come è fatto a Nazareth Con Maria e Giuseppe Noi ti preghiamo Per l'intercessione della Santa Famiglia di Nazareth Ascoltaci Signore Gesù Fa che ogni contrasto tra noi Sia superato presto E si possa trovare una rinnovata armonia Noi ti preghiamo Per l'intercessione della Santa Famiglia di Nazareth Ascoltaci Signore Signore Gesù Donaci fiducia nella malattia Fortezza nelle avversità Tu che sei la consolazione di chi soffre Noi ti preghiamo Per l'intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth Ascoltaci Signore Signore Gesù Che ci nutri con la Tua Parola e con l'Eucaristia Rendi i nostri cuori aperti alla Tua grazia E rendici generosi con chi è nel bisogno Noi ti preghiamo Per l'intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth Ascoltaci Signore Signore Gesù Che hai conosciuto accanto a Giuseppe la fatica del lavoro Aiutaci nei nostri impegni quotidiani Siano per noi un mezzo di crescita umana e cristiana Fa che possiamo essere compagni di viaggio Perché nella sofferenza e nella malattia Noi ti preghiamo Signore Gesù Che a Cana hai voluto aglietare per gli sposi la festa di nozze Rendici capace di vivere l'Eucaristia domenicale Non come un precetto Ma come un dono e un appuntamento per rinnovare la festa E gustare e far gustare in ogni festa La festa dell'amore Noi ti preghiamo E vogliamo anche ricordare le tante famiglie Che sono disunite o vacillanti Perché gli sposi trovino nella fede il coraggio per vincere le difficoltà E promuovere la saldezza del focolare domestico Preghiamo Vogliamo pregare anche per i nostri fratelli defunti In particolare per Rosalia, Giuseppa, Gaetano e Giuseppe Pietro, Melina e Giacomo Perché possono far parte della famiglia di Dio Nella sua dimora La dimora del suo regno Di luce e di pace e d'amore Preghiamo Signore Gesù Tu hai voluto nascere e vivere nel contesto di una famiglia umana Congedi che le nostre famiglie, sull'esempio della Tua Siano unite e in pace Disponibili e accoglienti verso gli altri Tu sei Dio e viveregni con Dio Padre Nell'unità dello Spirito Santo Per tutti i secoli dei secoli Grazie a tutti 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 con l'acqua e il vino, che simboleggiano l'unione dell'uomo con Dio, ed il calice con il pane che tra poco diventerà il corpo di Gesù, l'unico che può dare alle nostre famiglie la forza di essere fedele alla vocazione ricevuta. La tovaglia che adorna la mensa dove ogni giorno si rinnova il sacrificio eucaristico, alimento di speranza per ogni famiglia. Fede nuziali, segno per la coppia cristiana di adesione ad ogni progetto di vita che, alimentato dalla fede, può testimoniare l'amore di Dio, un amore fedele ed indissolubile. La terra, la terra dei nostri giardini. Ciò che vogliamo evocare è la terra di cui siamo fatti noi e di cui sono fatte le nostre famiglie, un misto di cose buone e di fatiche e resistenze, terra da lavorare, seminare ed irrigare, con amore, perché produca quei frutti di pace, di speranza, di bontà che vuole Gesù. Fiori, Signore, Tu che hai creato la natura con la sua bellezza, aiutaci ad essere aperti alla vita, a vivere sempre nella fecondità dell'amore, ad essere degni custodi del creato che ci hai affidato. Gesta di vivere. Signore, se essere solidali è un dovere per tutti, diventa per noi famiglie cristiane segno di fraternità. Rendici testimoni della Tua paternità nel farci carico della povertà del fratello. Grazie. Grazie a tutti. Luce donan le menti, pace infondi nei cuori. Luce donan le menti, pace infondi nei cuori. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Luce donan le menti, pace infondi nei cuori. Luce donan le menti, pace infondi nei cuori. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Il Lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo. L'uomo mortale è innalzato a dignità perenne. E noi, uniti a Te in comunione mirabile, condividiamo la Tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo ai Sultanti la Tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'Universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Ossana, 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 nell'alto dei cieli. Ossana, Ossana, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ossana, Ossana, nell'alto dei cieli. Ossana, Ossana, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a Te un popolo che non conviene all'altro della terra, offre al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ora Ti preghiamo umilmente, manda il Tuo Spirito a santificare i doni che Ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, Egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzolo diede ai Suoi discepoli e disse, Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse, Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunciamo la Tua morte, Signore Proclamiamo la Tua risurrezione Nell'attesa della Tua venuta Celebrando il memoriale del Tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della Tua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazia, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della Tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del Tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a Te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i Tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i Tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di Te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo entero. Conferma nella fede e nell'amore la Tua Chiesa pellegrina sulla terra, il Tuo servo e il nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che Tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia convocata alla Tua presenza, nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a Te, Padre misericordioso, tutti i Tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel Tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con Te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della Tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale Tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in dentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si combia la piata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il Regno, Tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo che ha detto ai Tuoi Apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. faccio secondo la Tua. La pace del Signore sia sempre con voi. La pace del Signore sia sempre con voi. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh, Signore, non avrete di partecipare alla Tomenica. Non avrete di partecipare alla Tomenica. Io sono salato. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia, 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 Dio ha visitato il suo popolo, ha fatto meraviglie per noi, alleluia. I cuori spenti vibrano d'amore, i volti tristi splendono di gioia, Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi. Alleluia, 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 Dio ha visitato il suo popolo, ha fatto meraviglie per noi, alleluia. Le bocche mute cantano in coro, le mani stanche ritmano la lode, Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi. Alleluia, 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 Dio ha visitato il suo popolo, ha fatto meraviglie per noi, alleluia. Alleluia, 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 Dio ha visitato il suo popolo, ha fatto meraviglie per noi, alleluia. Alleluia, 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 all Alleluia, Dio ha visitato il suo popolo, ha fatto meraviglie per noi, alleluia. Alleluia, Dio. Alleluia, Dio. Alleluia, Dio. Alleluia, Dio. Alleluia, Dio. Alleluia, Dio. Alleluia, Dio è il Signore e che cammina alla sua presenza. Beata la famiglia fondata sull'amore e che dell'amore scaturisce atteggiamenti, gesti e decisioni. Beata la famiglia aperta alla vita, che accoglie i figli come dono, valorizza la presenza degli anziani e sensibile ai poveri ed ai sofferenti. Beata la famigli, beata la famigli, beata la famigli, beata la famiglia che trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare festa insieme. Beata la famigli, beata la famigli, beata la famigli, beata la famiglia che non è schiava della televisione e sa scegliere insieme programmi costruttivi. Beata la famigli, beata la famigli, beata la famigli, beata la famigli, beata la famiglia dove regna la pace, in lei mette le radice, la pace del mondo. Beata la famigli, beata la famiglia che vive in sintonia nell'universo e si impegna per la costruzione di un mondo più umano. Beata la famiglia che nella santa famiglia di Nazareth trova il suo modello di vita e di comportamento. Beata la famiglia cristiana che è santa come la famiglia di Nazareth. Amen. Grazie. Grazie. Per Cristo, nostro Signore. Vi do gli avvisi, poi facciamo il sorteggio. Nel frattempo vi sedete. Allora, iniziamo con lunedì domani, giorno 30, alle ore 20, ci sarà la tombola per i bambini e i ragazzi di catechismo con le loro catechiste e catechisti. All'Eventi. Dopo domani, giorno 31, l'ultimo dell'anno, la celebrazione equaristica concluderà con il Tedeum, cioè l'adorazione e la preghiera di ringraziamento al Signore per questo anno 2013. Giorno 1, ci saranno le messe regolarmente a Sant'Emeri di Gesù alle 9, poi qui alle 11 e alle 18 e 30, qui in Madrice, abbiamo la vestizione del bambino povero. Giorno 2, il coro farà una serata, i bambini del coro con i maestri Cesare e Elena. Purtroppo, ecco, quest'anno alla fine non si è fatto il concerto natalizio del coro, per, insomma, motivazione particolare, ma loro lo stesso vogliono vedersi, incontrarsi, stare insieme, con i ragazzi, con il coro, tutti il coro, e lo faranno, questa serata la faranno giorno 2. Giorno 3, invece, animerà la serata, con Dombola, Schecci, eccetera, i giovani, ed è aperta a tutti, la serata di giorno 3. Giorno 4, invece, si sarà la messa a San Giuseppe, non sarà qui in Madrice alle 18, ma a San Giuseppe, e ci sarà poi, alle 21, un resital preparato dai ragazzi della parrocchia, dai bambini ragazzi della parrocchia, e il resital sarà presso il teatro Don Giulio Scuvera, c'è il cineteatro che c'è in piazza. E faremo, quindi, tutto là, la messa a San Giuseppe, e poi, la sera, il resital al cineteatro. Giorno 5, ci sarà la serata per gli anziani, a cura del gruppo volontariato. Giorno 3, a cura dei giovani, aperta a tutti, e giorno 5, a cura del gruppo volontariato, aperta soprattutto agli anziani e a quelle persone che magari hanno vissuto solo, da soli, queste feste. Sarà un momento per stare insieme, ma non solo, è aperto un po' a tutti, anche questa serata. Giorno 6, invece, saranno consegnati, dopo la messa delle undici, ai bambini, da parte di una fatina, i regali che i genitori vogliono dare ai figli, i quali i genitori li consegneranno prima, mezz'oretta prima della messa, al dottore Emilio Buttiglieri, che poi provvederà, insieme alla fatina, a distribuirli ai figli dei genitori che hanno portato i regali. Giorno 6, c'è anche la vestizione di un altro bambino povero, che si farà però nella chiesa di Santa Maria di Gesù. A Santa Maria di Gesù le messe sono soltanto nei giorni festivi, non quei giorni feriali, no, e quindi sarà giorno 1, giorno 3, perché c'è il primo venerdì del mese, giorno 5, che è domenica, e poi giorno 6 per la vestizione del bambino povero a Santa Maria di Gesù. Per gli avvisi abbiamo finito, non so se dimentico qualcosa, penso di no. No, l'ultima cosa, per ultima perché è la più imminente. Il gruppo Coppie, alle 21, ci aspetta tra un'oretta, nel salone Giovanni Paolo II della parrocchia, per stare insieme fraternamente, facendo canti, danze, karaoke, musica, balli, e condividere un panettone e un brindisi. Quindi gli avvisi adesso sono completi. Però facciamo il sorteggio delle due statue di Sacra Famiglia. I biglietti sono gli stessi che avete avuto per il sorteggio del bambino. Adesso completiamo il sorteggio dei biglietti che avete ricevuto, che avete comprato, che avete preso, con Allora, Gloria, Gloria, vieni qua, ma ti voglio parlare io, vieni qua. C'è un'altra bambina piccola. Vabbè, Lucia, va. Quella pure si sta nascondendo con il mio papà. Vieni, avanti. Lucia, ecco Lucia. Quest'anno i bambini di seconda. Allora, aspetta, Lucia, aspetta, lascia stare. Vieni qua, subito, non possiamo prenderlo subito il biglietto. Intanto presentati alla comunità. Come ti chiami e che scuola fai? Lucia Canizzaro, scuola seconda A. Benissimo. Lucia Canizzaro, seconda A. Adesso tu, nel prendere il biglietto, metti la mano, affondala la mano, no? Ecco, cerca di pescare nel mezzo un solo biglietto. Avanti. Vabbè. Allora, vogliamo prendere la prima sacra famiglia, così sappiamo qual è la prima per non confondere, poi qual è la seconda. Dici, no, dici, quella è la prima, quella è la seconda. Ecco. Ora, biglietto serie C, qua abbiamo scritto il nome, tra i niti Gianluigi, è un ragazzo, perché è il figlio di Littina? Eh? Il nipote di Silvia sarà, sì. Vabbè. Allora, il secondo premio, che è questa bella sacra famiglia, vedete? Ecco, va a Gianluigi, tra i niti. Non possiamo fare come per i bambini, se c'è o non c'è. Qua, chi viene scelto, già c'è scritto, ecco, ci deve portare, insomma, ci deve portare, qua c'è scritto, quindi non... Se lui, glielo facciamo sapere, poi si viene a prendere il premio. Allora, possiamo lo qua, sull'altare, posalo qua. Ma attendo, aspetta. Allora, Gloria, vieni qua, che ti devo dire una cosa, ti devo dire. Vieni qua. Una cosa. Insieme alla mamma, vieni, dai. Ma neanche la mamma vuole venire? Ah, vieni. Vieni, vieni. Gloria? Niente. Eppure mi sorride sempre, mi saluta, contenta, e stasera? Ah, ma abbiamo a Leila. Leila, vieni qua. Allora. Leila, vieni qua. Intanto, presentati pure tu, a questa comunità. vedete che bella questa comunità. Dici, come ti chiami? Aspetta, il microfono. Leila. Famà. Che scuola fai? La prima. Ecco, benissimo. Allora, questa è, Lucia, mettiti qua, il terzo premio, cioè il premio di un'altra sacra o santa famiglia. e affonda la mano tra tutti questi biglietti. Affondala, affondala. Nel fondo, nel fondo, nel fondo, in fondo, in fondo, in fondo, ecco. Avanti, uno solo prende. Ecco. Vediamo. Buci Giuseppa, quella che ha fatto 29 anni di matrimonio oggi. Ecco, vedete? Perciò, ma, quindi, vedete, a chi andava oggi il pensiero? A Giuseppina. A Giuseppina. Numero 63. Ecco, numero 63. È sicuro che è il vostro, questo. Leandro ce l'ha il biglietto. Vabbè, a posto. Ecco, questa è vostra. Aspetta che facciamo una benedizione di tutte e due. Dio, fonte di ogni benedizione, benedici queste immagini della Sacra Famiglia nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ame. Perché chi li custodisce a casa possa sentire i benefici della tua presenza. Ame. Tanti auguri di nuovo. Arrivederci. Grazie. Bene, grazie a Lucia e a Leila. Sono state bravissimi. Leila ha scelto bene. Anche Lucia l'ha scelto bene. Solo che non c'è il giovanotto che l'ha preso. A lui, come si chiama? A Luigi. Lo conosciamo tutti a Gianluigi. Allora, mi pare che dobbiamo solo dare la benedizione. Allora, invochiamo la benedizione per tutti voi qui presenti, per le coppie, le famiglie che non sono potute venire. Perché sapete, qualcuno ha l'involenza, qualcuno ha il raffreddore e mi ha fatto sapere che purtroppo non poteva essere presente alla celebrazione stasera. Quindi preghiamo anche per loro e per tutti, ecco, per voi, per le vostre famiglie, perché questa benedizione sia un dono ulteriore, copioso da parte di Dio di favori per i bisogni di tutte le vostre famiglie. il Signore sia con voi e con il suo spirito e la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sotto per le nove è aperto a tutti quindi vi aspetto per più tardi alle 21. La celebrazione è finita in Cristo Gesù andate in pace. Dio è con noi Emanuele Dio è con noi Emanuele dove è il nostro Dio perché Dio è con noi Nessuno va derrando su strade senza uscita perché Dio è con noi Dio è con noi Emanuele Dio è con noi Emanuele e Dio è solo nel suo male perché Dio è con noi Dio è con noi Emanuele Dio è con noi Emanuele